Questa sera in tv, lunedì 4 dicembre 2023, offre una varietà di film per tutti i gusti. Su Rai 5 alle 21 e 15 c'è aria ferma, un dramma diretto da Leonardo Di Costanzo ambientato in un carcere in dismissione. Su Iris alla stessa ora, Rocky Balboa di Sylvester Stallone racconta la vita di Rocky dopo la morte di sua moglie e il suo ritorno nel mondo della box. Su Cine 34, sempre alle 21 e 15, ti presento Sofia di Guido Chiesa segue la storia di Gabriele, Mara e la loro figlia Sofia che cambia le loro vite. Altri film in onda questa sera includono Giuseppe venduto dai fratelli su TV 2000 alle 20 e 55, The Time Machine su 20 alle 21, My Best Friends Christmas sulla 5 alle 21 e Die. Io sono la legge su Rai Movie alle 21 e Die. Il segreto del mio successo su 27 alla stessa ora. Vendetta su Italia 1 alle 21 e 20, Wrong Turn The Foundation su Rai 4 alle 21 e 20. Autumn in New York su cielo alle 21 e 20 e Labirinto d'amore su Rai Premium alla stessa ora. Infine, Laura Cofft, Tomb Raider sarà trasmesso su Warner TV alle 21 e 30. La serata offre una vasta gamma di generi, dal dramma alla commedia, all'azione e all'horror, garantendo un'ampia scelta per gli spettatori con preferenze diverse.